Allora siamo insieme ad Anna Sappino, campionessa italiana di moto da enduro. Complimenti per il titolo, anche insomma per tante cose che ho appena conosciuto di te. Grazie. Mi ha fatto molto piacere. Grazie. Senti, come ti sei avvicinata al mondo delle moto da enduro? È stato un passaggio diretto dalle moto da cross. Tempo fa facevo le gare di motocross, poi un piccolo infortunio, ho ricominciato con degli amici, c'era qualche endurista, mi hanno un po' coinvolto con qualche uscita, qualche cavalcata e di lì la moto è passata dal cross all'enduro. E che ricordo hai della tua prima moto? La prima moto è stata sofferta. Io ho sempre voluto la motoretta da piccola, ma i miei genitori non erano molto d'accordo. E siccome non andavo proprio benissimo a scuola, mia mamma mi ha promesso una moto a fine anno se fosse stata promossa a giugno. E allora zitta zitta mi sono messa a studiare, sono rimasta promossa a giugno ed è arrivata la prima moto soffertissima. Da lì, dicevo, le prime gare di cross, tanti anni di allenamento in gara e poi le gare di enduro. E poi sette titoli di campionista italiana, insomma. Sette titoli, sì sì, sono tanti, mamma mia. C'è qualcuno in particolare che ti ha emozionato di più o tutti importanti? Beh, tutti importanti, tutti sofferti. L'enduro non è proprio uno sport facile facile. Diciamo che il primo anno è stato ovviamente il più bello. Avevo una fortissima avversaria e me lo sono sudato. Gli altri non sono stati certo lisci come un bicchiere d'acqua, però sono stati ricchi di soddisfazione, guarda. Senti, in questi anni di attività c'è una moto in particolare che ti ha dato maggiori soddisfazioni? Quindi qualcuna con cui ti trovi meglio? Beh, quella che ho adesso, che è un'onda a due e mezzo o quattro tempi, è fantastica. Mi trovo benissimo. Però devo dire che anche quella che avevo prima era bella. bisogna un po' adattarsi allo stile di guida e ogni moto ha le sue caratteristiche e sta al pilota un po' adattarsi e a settarsi un po' alle esigenze della moto. Però devo dirmi che questa Honda quest'anno è fantastica, bellissima. Senti, ci racconti un po' il mondo delle donne pilota. Intanto che rapporto hai con le colleghe, con le tue concorrenti? Allora, le mie colleghe sono più amiche che avversarie. Non siamo tantissime. Il mondo dell'enduro è aperto tantissimo alle ragazze, perché è uno sport molto particolare. però che poi alla fine fanno le gare, siamo veramente in poche. E quindi è più una piccola cerchia di amiche, che ci troviamo alle gare e dividiamo i weekend insieme. Senti, invece gli uomini come ti vedono e come vi vedono? Gli uomini, gli avversari maschietti. C'è un grosso rispetto ovviamente noi con loro e da quello che ho capito loro con noi. Superare le avversità delle gare, soprattutto quando incominciano a diventare veramente impegnative, perché noi ragazze corriamo con i ragazzi, non ci sono gare dedicate. E quindi quando, soprattutto alla fine di una gara molto sofferta, dove anche i ragazzi magari hanno trovato difficoltà, alla fine vengono sempre a fare i complimenti. Eh, si è riuscita a finire, brava, eh, com'è andata. C'è molto rispetto tra tutti i piloti e anche come le ragazze, ecco. Sì, so che c'è anche, mi raccontavi, un ambiente molto genuino, anche a fine gara, spesso magari andate a mangiare tutti insieme. Sì, 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 è onesto, è un ambiente dove i piloti sono anche amici. C'è poco contatto fisico. A dire vero, eh, il vero nemico, il vero avversario è il cronometro, è il tempo. Quindi chi riesce ad andare più forte o chi riesce a sbagliare di meno vince. E non essendoci questo contatto diretto, come magari nel motocross o altri comunque sport, i piloti molte volte sono amici, non hanno rivalità. È bellissimo la sera, magari la sera prima col motoclub si va a fare magari la grigliata o la sera dopo si festeggia tutti insieme. È veramente un bel ambiente. Sì, in tante gare, disputate, c'è qualche... Magari ci sarà stato qualche episodio un po' particolare che ti ricordi? Qualche aneddoto? Qualcosa che ti è successo che ti è rimasto impresso? Beh, devo dire che la cosa più strana che mi è successa... Ero a una gara di motorelli che è molto simile all'enduro, da amici mi avevano invitato e pioveva tantissimo, c'era un tempo veramente infame. In mezzo alla prova speciale, in una pozza trovo un vitellino che stava affogando. Ero in prova speciale ma non ce l'ho fatto, ho parcheggiato la moto e sono andata a tirarlo su. Che poi probabilmente pesava più di me, è stato difficilissimo. Ovviamente la gara l'ho persa, però forse il vitellino è ancora vivo. Beh, è una cosa bellissima comunque quella che hai fatto. Sì, sì, guarda, mi faceva troppo pena lì. Ho detto, dai, dai, vabbè, la gara, pazienza questa volta. Senti, adesso sei in un periodo tranquillo perché so che la stagione si è conclusa da poco. Sì. Ci racconti un po' appunto quali sono le stagioni e quindi qual è l'impegno per ciascuna fase? Beh, quest'anno è stato molto faticoso. Abbiamo fatto diverse gare io e le mie avversarie amiche e l'allenamento è stato molto duro. A differenza dei ragazzi noi un po' di muscoli dobbiamo metterli in cantiere d'inverno. Quindi tanta palestra, poi un po' di fiato con la bici, con il nuoto. Si va a correre ovviamente quando si può e poi tanta moto. Ovviamente bisogna sempre conciliare il tempo, il lavoro, la famiglia. Però purtroppo è necessario perché più uno è preparato e meglio guida la moto, rischi meno gli infortuni, insomma c'è tutta una serie di cose che quindi consiglio vivamente di allenarsi prima di partecipare a un campionato. Senti, nella stagione che si è appena conclusa so che hai avuto un bel po' di successi. Com'è andata? Successi o soddisfazione è andata benissimo. Quest'anno per la prima volta la federazione italiana ha iscritto una squadra femminile da sei giorni. La famosissima sei giorni di enduro. Abbiamo fatto un grosso allenamento e alla fine tutte le ragazze della squadra siamo arrivate alla fine. Abbiamo corso, abbiamo dimostrato di essere lì lì e pur con qualche problemino la mia collega Paola ha spaccato il motore, è riuscita ad aggiustarlo in parco chiuso. Cristina ha faticato un po' per recuperato, io ho preso qualche tombolone ma poi sono rimasta in gara. Quindi è andato tutto benissimo e concludere una sei giorni è una cosa veramente che riempie di soddisfazione. Non so se sai, se conosci da sei giorni, è una gara che rappresenta l'apice dell'enduro. Ogni anno si dedicano sei giorni di gare in posti ovviamente meravigliosi e ogni anno in posti diversi. Steve McQueen ci ha provato anni fa con la squadra americana e lui non è riuscito a finirla. Quindi mi repe d'orgoglio arrivare alla fine, di essere arrivata alla fine. Allora quest'anno l'abbiamo fatta per il centenario, quindi era proprio anche un'annata particolare in Italia, in Sardegna. E oltre alla squadra del Vaso, oltre alla squadra di World Trophy c'era anche alla squadra finita. Mi sono onorata di aver partecipato e di aver finito. Finita la sei giorni ho concluso anche il campionato italiano e sono arrivata prima per la settima volta e quindi non posso anche essere felice. Che cosa consiglieresti a una ragazza che vorreste intraprendere questa attività? Di sicuro di appoggiarsi a un motoclub che segue l'enduro. È uno sport un po' particolare, ha le sue regole e c'è bisogno di qualcuno che prepari, organizzi e che segua proprio il pilota vero e proprio. Al di là delle gare che magari possono essere la punta dell'iceberg, anche per le uscite comunque di solito si esce sempre in 3 o 4. Il motoclub è la cosa migliore da frequentare per queste cose. E ovviamente se uno ha già una compagnia, una ragazza ha già una compagnia di legarsi a qualche ragazzo un pochino più bravo che può dare qualche dritta, qualche consiglio. Perché è già uno sport un po' faticoso, un po' difficile, siamo un po' svantaggiate. Però con due o tre trucchi si arriva ovunque. Senti, quando hai cominciato c'era qualche campione o campionessa che volevi emulare o addirittura anche superare? A dire la verità, io sono nata con la passione della moto. Non c'è stata un episodio, un'occasione particolare dove ho visto la moto e me ne sono innamorata. Io fin da bambina avevo la passione della moto, io volevo la moto a tutti i costi. Ma senza avere qualcuno da copiare, è proprio una cosa, io volevo la moto. Poi con gli anni, per fortuna sono riuscita ad avvicinarmi a questo mondo, con gli anni ho cominciato anche ad apprezzare veramente quanto forti, quanto bravi siano i campioni. Tutte queste biciclete, dal motocross, all'enduro, al trial, al supercross, chi arriva al top veramente ce ne mette tanta di volontà, tanto lavoro, quindi tutto il mio rispetto. Beh, magari adesso potresti essere una campionessa da emulare. Mi piacerebbe, infatti mi piacerebbe molto. Se fossero qualche ragazzina da tirare su, sarei onorata di raccontare e di spiegarle qualche dritta, ecco. Quindi è una sorta di sogno nel cassetto di obiettivo che ti sei posta. Ma dopo tante gare, infatti un'idea è balenata dentro il casco. Mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe, ci sto lavorando su, creare, portare avanti una squadra di ragazze nell'enduro. Allora, di sicuro la base sarebbe il Motoclub Altaserra, che mi ha sempre seguito in tutte le gare e in tutte le mie avventure, quindi mi appoggio con piena fiducia a loro. Si trovano a Bollengo e tutte le settimane ci ritroviamo tutti insieme per affrontare nuove avventure. Quindi lì ci sarà la base di questa nuova scuola, magari, certo, certo, sì. Senti, un'ultima domanda. Questa attività, dai racconti che ci siamo appena a parte, da quello che mi hai raccontato anche prima, penso che ti porti via tanto tempo, no? Anche dal punto di vista proprio della vita personale. Pesa, ti ha pesato o riesci a considerare le due cose? Ma è una passione ovviamente molto forte e il problema è trovare il tempo. Il problema per allenarsi, per girare, per sistemare la moto, i pezzi, l'abbigliamento, fare lavatrici, richiede tanto tempo. E bisogna sempre fare gli equilibristi con la casa, la famiglia, gli amici, il lavoro, ovviamente. Però si trova, un pezzettino di qui, un pezzettino di là. Per adesso l'abbiamo trovato. Ottimissima domanda. Il primo impegno del 2014. Il primo impegno del 2014. Il campionato italiano? Con questa possibile e futura squadra, ci piacerebbe partecipare al Mondiale e all'Europeo. So che è un impegno oneroso e comunque molto impegnativo da tutti i punti di vista. Però ci vogliamo provare. Ripeto, io e le mie colleghe ci stiamo lavorando solo. Bene. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Allora ci troviamo fra un anno per l'intervista come campionessa italiana per l'ottava volta. Speriamo, speriamo. Grazie mille. In bocca al lupo, davvero complimenti. Grazie. 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 Grazie.